Due persone che si vogliono comunque bene a prescindere il sesso o a prescindere l'entità credo che abbiano il diritto di essere riconosciute come tra virgolette diciamo famiglia o comunque come una famiglia quindi nel caso in cui uno dei due possa sentirsi male o possa succedere ci sono mille ipotesi da poter fare uno possa avere accanto la persona che ha deciso di avere accanto per la vita Francesco e Francesco due giovani aretini si sono sposati nel dicembre 2014 in Portogallo oggi a distanza di quasi due anni dal giorno del sì grazie alla legge che permette alle persone dello stesso sesso di costituire un'unione civile hanno deciso di far riconoscere il loro vincolo e soprattutto i propri diritti anche in Italia attraverso la trascrizione di quel matrimonio celebrato all'estero ed è così che la coppia inizia quella che ha definito la loro via crucis attraverso la burocrazia italiana fatta di attese e moduli mancanti ed un lungo su e giù per l'Italia alla ricerca dei moduli richiesti è che al comune nessuno ha saputo darci una spiegazione chiara è vero che un po' il decreto mette un po' dei punti interrogativi ci sono alcune cose che sono un po' poco chiare però è anche vero che il lavoro che abbiamo fatto io e mio marito perché io riferisco di mio marito in questi giorni era un lavoro che doveva fare l'amministrazione comunale perché noi non siamo andati a chiedere chissà cosa ma siamo andati semplicemente a chiedere un nostro diritto e tutto quello che abbiamo fatto noi lo dovevano fare loro e a fare da cassa di risonanza le segnalazioni di alcune coppie che non avrebbero ricevuto le risposte adeguate in merito alle unioni civili da parte degli uffici competenti ci ha pensato il comitato Arcighei Arezzo abbiamo avuto varie segnalazioni da altri nostri soci ma o comunque altre persone che gravitano intorno all'associazione che hanno chiesto di poter celebrare l'unione civile ma hanno avuto dei rimandi per certi aspetti è una cosa molto simile a quella che ha raccontato Francesco adesso quindi poco giustificabili nel senso che adesso dal 29 di luglio il decreto ponte è diventato attuativo quindi la legge c'è è legge di questo Stato pubblicata sulla Gazzetta d'Italia quindi non ci sono più scuse per poter non procedere all'applicazione della legge grazie a tutti grazie a tutti